Allora diamo inizio a questa tavola rotonda un po' particolare perché dovremmo parlare dello stato di attuazione, di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico a livello delle singole regioni. È un compito assai arduo perché come voi sapete la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico a livello regionale è quanto mai eterogeneo, sia per quanto riguarda i livelli di infrastruttura che per quanto riguarda i diversi aspetti di riempimento del fascicolo sanitario elettronico. Peraltro c'è anche una questione ancora abbastanza poco chiara, si continua a comunicare in maniera poco chiara su questa cosa. Vi ripeto che il DPCM non è stato firmato e come tale non è esecutivo un aspetto abbastanza importante, cioè il fatto che non sono penalizzabili le regioni che in qualche modo si trovano in ritardo rispetto alla programmazione. Questo era l'aspetto diciamo centrale. La regione Lazio ha fatto il bando di gara per l'FSE con scadenza il 7 luglio. La regione Sardegna ha la propria in house a cui è stato bocciato l'intero budget di bilancio per cui non si sa bene che cosa farà dell'FSE e la situazione non ha neanche una cabina di regia precisa vista che l'agito in questo momento è senza una direzione. Quindi è chiaro che la data che è stata data dal governo del 30 giugno ha un valore di raccolta di quando è stato fatto finora per cercare evidentemente di disegnare una strategia che sarà molto diversa rispetto a quella che è stata seguita e di questo ne siamo assolutamente certi anche perché oggi viene firmato un patto di accordo tra le aziende e il Ministero della Salute proprio sugli aspetti tecnici di sviluppo dell'FSE che non è mai piaciuto. L'impostazione che ha dato il CNR non è mai piaciuta. Questo per quanto riguarda diciamo le versanti di carattere politico generale. Io ringrazio la dottoressa Pulito e il professor Izzo per avermi dato la possibilità di assistere a queste due giornate perché mi trovo veramente denso di... sono stato stimolato molto in vario modo e devo però segnalare come dire vorrei essere provocatore nei confronti di chi in qualche modo ha sviluppato in queste due giornate tutti gli aspetti legali. C'è una cosa che non è stata secondo me chiarita abbastanza e bene, cioè il fatto che l'FSE e l'EA cioè la legge istitutiva dell'FSE lo istituisce come strumento l'EA, questo non è una cosa da poco perché come l'EA è equiparato tutti gli altri l'EA, da qui il fatto che se le regioni non consegnano bene la programmazione regionale vengono penalizzate, non ricevono il fondo sanitario aggiuntivo eccetera eccetera ma come l'EA e come tutti l'EA devono garantire l'accesso ai servizi sanitari e l'equità di accesso cioè questi sono i principi fondanti che sono proprio i principi costituzionali, nulla hanno a che vedere con le leggi della privacy e quant'altro. Io come dire ho visto dei discorsi, ho sentito dei discorsi che di questo aspetto non ne hanno tenuto conto, cioè è come se il punto di vista della giurisprudenza viaggia autonomamente rispetto a questo principio, che ripeto è un principio che si rifà a un ambito costituzionale quindi non è una cosa accampata in aria. Il rischio di un approccio estremamente legale o legalista all'FSE da questo punto di vista rischia di paralizzarlo, cioè di distruggerlo completamente ma soprattutto secondo me non tiene conto di quella che è la reale realizzazione storica dei rapporti della medicina col territorio e con i pazienti ripeto siamo in 21 sistemi sanitari regionali diversi e vi assicuro che nell'area centro-sud i rapporti con il cittadino non sono quelli che ci sono qua l'FSE può diventare uno strumento di forte spinta all'empowerment ma io qua mi rivolgo alla cittadinanza attiva ma io ritengo di democrazia e di accesso ai servizi non di un power, proprio di democrazia e di accesso ai servizi e credo che il dottore Dario recentemente abbia fatto una dichiarazione in tal senso e l'approccio invece che ci sta scegliendo nella discussione sull'FSE è un approccio decisamente aziendalista cioè è uno strumento che ancora le aziende sanitarie l'abbiamo visto nella discussione di ieri del dibattito a proposito del Tacuino che le aziende sanitarie considerano comunque uno strumento principale della loro governance, della loro gestione perché lo diceva il professore Lazzini prima al loro interesse soprattutto l'aspetto gestionale di governo e non stanno lavorando per dare al cittadino uno strumento per rendersi completamente autonomo rispetto al proprio percorso di salute perché questo significa molto questo significa cambiare i rapporti col paziente significa rivedere i ruoli delle singole corporazioni sanitarie all'interno di questo percorso rivedere il ruolo tra azienda sanitaria e territorio eccetera un'altra cosa volevo segnalare a proposito dei limiti che rischiano di rendere l'FSE veramente vuoto lo schema che è uscito recentemente il parere del garante sullo schema di PCM roba di 4 giorni fa 5 giorni fa per le settezza nella newsletter del 26 giugno in cui il garante della privacy ha segnalato e deciso alcune cose sul TPCM dice chiaramente che i documenti clinici non possono essere utilizzati a fine di programmazione e di ricerca la mia domanda e la apro come provocazione a chi studia giurisprudenza è possibile garantire il LEA senza questo? che tipo di assistenza noi possiamo garantire se non c'è un accesso ai dati clinici? e andiamo al discorso open data di cui si è parlato ieri e per quale motivo in Italia io penso che questo debba essere il problema della riflessione giurisprudenziale continuiamo ancora ad avere una legislazione sugli open data che è assolutamente contrastiva rispetto a quello che avviene in altri paesi europei e un'altra cosa mi piacerebbe chiedere è se il regolamento europeo della privacy questa cosa la sta ponendo ci siamo detto questo io ora come dire do la parola ai vari rappresentanti delle regioni che dovrebbero avere già consegnato i programmi diciamo di sviluppo però diamo prima la parola al dottore Sfredda che ha un problema di mezzi cioè deve tornare ad Ancona se non sbaglio no? giusto? quindi di tempi tu hai problemi di tempi devi partire esattamente allora ti diamo la parola per primo e poi purtroppo ho un problema di tempi legati al trasporto esattamente è per questo che intervengo per primo mi scuso mi scuso davanti a tutti io adesso naturalmente vi porto l'esperienza che poi in realtà molto molto brevemente perché proprio brevemente l'esperienza è a che punto è l'implementazione dell'FSE nella regione Marche la regione Marche più di ogni altra regione è stata interessata dall'aziendalizzazione unica noi abbiamo un'azienda unica per tutta la regione con naturalmente tutti i servizi territoriali 22 presidi di rete e due grandi aziende ospedaliere pubbliche quindi è stata fatta una grandissima rivoluzione in questi anni in questi ultimi dieci anni a partire dal 2004 c'è un'azienda sanitaria unica regionale per cui anche tutto il discorso relativamente al controllo delle risorse informatiche è stato diciamo già attuato in un certo senso quindi tutto è stato come dire sottoposto a controllo attraverso un censimento molto molto importante dai servizi informativi centrali per quanto riguarda il discorso delle FSE le Marche parliamo insomma del 2009 risultavano essere una delle regioni diciamo così virtuose perché avevano già avviato progetti di implementazione per l'infrastruttura informatica ed effettivamente è così a tutt'oggi si sta lavorando con particolare accelerazione finanziaria economica perché l'assessore regionale l'assessora regionale ha in qualche modo dettato l'agenda per diciamo come dire fissare i punti di progettazione per quanto riguarda proprio l'infrastruttura che è un po' critica devo dire la verità come penso qualsiasi infrastruttura informatica regionale che ha dei punti che devono essere comunque verificati e dopodiché sono stati approvati due grossi progetti uno che è quello del FISEL sostanzialmente il fascicolo sanitario e socio sanitario fascicolo elettronico socio sanitario e anche un altro progetto diciamo di offerta di informazione sull'offerta dei dati o perlomeno dei servizi socio sanitari nelle Marche c'è questa prevalenza diciamo a considerare l'offerta sanitaria più che altro un'offerta socio sanitaria nel pieno diciamo dell'integrazione socio sanitaria quindi in un certo senso l'orientamento marchigiano da questo punto di vista è questo notizia del 2012 diciamo poi che sono stati confluiti nuovi finanziamenti attraverso la riprogrammazione dei fondi FAS quindi con un atto ufficiale quindi con un atto anche autorizzativo da parte diciamo dei ministeri centrali addetti in cui sono state confluite nuove risorse attualmente siamo in fase come dire di allargamento e di miglioramento diciamo così della base informatica o dell'infrastruttura informatica per quanto riguarda le FSE stiamo in realtà cominciando a lavorare in maniera più specifica nell'ambito dell'ASUR nell'ambito dell'azienda sanitaria unica regionale il sottoscritto è stato anche chiamato a vario titolo in definitiva a fornire una sorta di consulenza fra virgolette anche se di consulenza non si tratta ma io sono entrato a far parte del gruppo diciamo che dovrebbe lavorare per la creazione di questo fascicolo sanitario quello che trovo nelle marche come ecco credo anche in altre regioni è sostanzialmente una sorta di navigare a vista sotto certi punti diciamo sotto un'ottica navigare a vista vorrebbe dire non essere perfettamente ancora consapevoli delle potenzialità del fascicolo sanitario elettronico anche la difficoltà di portare avanti una discussione per quanto riguarda la riservatezza dei dati personali attualmente ecco questa è attualmente la situazione delle marche mi sentirei di fermarmi qui perché ecco non so dirvi altro visto che le riunioni sono in corso e che io sto partecipando a questo tipo di incontri insomma con il livello regionale il suo intervento è indicativo diciamo della mancanza ancora di un coordinamento ancora più serrato su questo su questo tema passo la parola al dottore Conforti che invece di ospedale e territorio ci vuole dire molto buongiorno a tutti allora io credo che diciamo dello stato d'attuazione dell'implementazione del fascicolo sanitario in Trentino abbia parlato questa mattina Leonardo Sartori dando di fatto quelli che sono i contorni i numeri e tutto quanto quindi insomma è un sistema dal punto di vista il sistema informativo assolutamente è evoluto vede coinvolto tutto praticamente il 100% degli operatori delle strutture sanitarie del territorio nel senso che quello che voglio dire è che alla base di un fascicolo sanitario elettronico è necessario lo diceva stamattina qualcuno ma ancora ieri nel pomeriggio è fondamentale e basilare che esistano i sistemi informativi sanitari nel senso che il ministero se ne è uscito con questo decreto assolutamente come dire interessante da un punto di vista di finalità ponendo però come dire queste scadenze come se bastasse emanare un decreto per arrivare nell'arco di un anno di questo stiamo parlando un anno un anno e mezzo ad avere il fascicolo sanitario interoperabile nazionale allora la nostra è una situazione voglio dire assolutamente evoluta ma non perché siamo i più bravi semplicemente perché abbiamo una realtà che non è complicata nel senso che siamo 500.000 abitanti abbiamo un'unica ASLE abbiamo 500 medici di base 150 farmacie cioè voglio dire siamo pochi siamo anche bravi per l'amor di Dio però insomma niente di straordinario ci sono altre realtà dove queste cose sono molto più complesse e in queste realtà io sono su tutti i tavoli ministeriali quindi con tutti i miei colleghi delle regioni che non nascondono le complicazioni che non dipendono dalle persone siamo a un livello in cui non esistono i sistemi informativi sanitari così strutturati e come dire così sviluppati nelle regioni quindi a livello regionale vedo molto difficile noi stessi non abbiamo un fascicolo sanitario a norma rispetto a quello che è previsto dal decreto se compriamo il campo ma nelle altre regioni non arrivano neanche ad avere un fascicolo sanitario completo nel senso che il cittadino ma lo stesso operatore ieri si parlava di over data di over informazione ma se il cittadino va in una struttura che non è collegata che non ha un sistema informativo collegato quel dato non entra nel fascicolo sanitario elettronico e non entrerà mai nel fascicolo sanitario elettronico né per il fascicolo sanitario elettronico di quella regione ma magari neanche nel dossier men che meno in una sorta di fascicolo sanitario nazionale che sarà a venire quindi la prima cosa da fare in assoluto il ministero per altri versi con altre decette ha già intervenuto in questo e secondo me questa era la strada maestra da perseguire pur mettendo delle linee di indirizzo sull'idea diciamo di arrivare a un fascicolo sanitario ma è quello di sviluppare sistemi informativi regionali possibilmente il più possibile con delle logiche diciamo omogenee sul territorio ne dico una su tutte ma potrebbe spiegare cioè replicare anche su altri argomenti il fascicolo prevede la definizione dell'alimentazione del pesce in summary il pesce in summary in capo al medico medicina generale che dovrà essere generato dai gestionali immagino dei medici medicina generale ebbene ogni regione cioè il ministero su questo dice dovete farlo però io mi aspetterei visto e considerato che i gestionali sul territorio nazionale quelli sono che un'azione importante da parte del ministero anche in una logica di pressione affinché venisse sviluppato un sistema di codifica di sviluppo e soprattutto di sostenibilità cioè di pagamento dell'intervento in una volta soltanto perché noi con la ricetta elettronica con i certificati di malattia adesso col fascicolo ci ritroviamo in tutte le regioni ogni volta ad andare in contrattazione con le software house e ognuno ognuno di noi chiede le stesse cose probabilmente e le paga quindi si pagano una serie quindi voglio dire è importante che ci sia una regia una regia forte e qui non è molto chiara perché esempio le cose che sono state che stanno andando in porto che sono le certificati di malattia e la ricetta elettronica ahimè derivano da decreti portati avanti dal ministero delle finanze non della salute il fascicolo dobbiamo presentarlo all'agide non al ministero della salute sui tavoli però c'è il garante e il ministero della salute quindi voglio dire anche tra di loro effettivamente non c'è sì c'è questa cabina di regia ma secondo me non è che funzioni molto bene per fortuna ci sono queste commissioni dove ci sono anche le regioni che in qualche modo limitiamo i danni ma non abbiamo potere in realtà non so se si può dire ma noi avevamo chiesto alla luce del fatto che non c'erano ancora pubblicato il decreto attuativo tutte le regioni ma le regioni non i funzionari hanno chiesto di posticipare la scadenza del 30 di giugno per la presentazione del progetto ma non in una logica siamo in adempienti quindi vi chiediamo 30 giorni ma in una logica come dire di efficienza compiliamo i progetti nel momento in cui sappiamo che cosa ci sta dicendo il ministero nel decreto attuativo ecco questo neanche questo non siamo riusciti a portarci a casa io so anche che ci sono state regioni che non hanno neanche risposto a questo proposto risultava tutto no per cui insomma hanno lasciato correre certe cose allora sicuramente come dire torniamo ancora a insistere parlare di FSA insomma poi significa un po' sparare sulla croce rossa il problema della connettività il problema dell'integrazione centrale il problema anche importante di un modello funzionale cioè ogni regione ha i suoi modelli funzionali molto diversi modalità di realizzazione diverse anche di organigrammi interni 21 organigrammi diversi figure anche non specializzate che guidano questo cambiamento da questo punto di vista il Veneto forse è tra le regioni che forse presentano un modello particolarmente importante perché parte dal mondo sanitario perché è stato come dire un modello molto prudente che si è realizzato negli anni a ragion veduta e non a caso il Veneto è la regione diciamo di coordinamento dell'intero delle regioni a te la parola Federica grazie intanto ringrazio tutti per l'invito sì continuando un po' il discorso di Diego il Veneto appunto ha la fortuna o la sfortuna di essere rappresentante del coordinamento interregionale e anche all'interno insieme ad altre regioni nel tavolo tecnico con oggi il ministro della salute che ha redatto il DPCM e anche le linee guida di presentazione dei piani sì la richiesta di proroga per esempio è uno degli esempi clamorosi di come appunto ci troviamo di fronte a un sistema che effettivamente non dà risposte diciamo puntuali e tantomeno certe è evidente che abbiamo presentato i piani tutti quanti ieri perché ci è stato detto durante l'incontro che il fascicolo è un LEA e ci hanno anche detto ricordatevi che l'adempimento LEA per il 2014 che controlleremo nel maggio 2015 è che voi abbiate presentato i piani entro il 30 giugno quindi a fronte di questa richiesta Lorenzo Gubbian ha guardato e abbiamo mandato immediatamente una mail una mail abbiamo anche chiesto durante l'incontro del 24 io ero lì ok d'accordo ma terrete conto del fatto che non c'è un DPCM pubblicato e che giustamente ok abbiamo lavorato sui tavoli ok l'interregionale ha inviato n volte il DPCM e le linee guida ai colleghi delle regioni perché è evidente che il lavoro va condiviso però non c'è una firma su una pubblicazione diciamo ufficiale di gazzetta e l'ha risposto sì terremo conto però è voce non è scritto da nessuna parte allora le regioni che erano lì si sono sentite e si sono diciamo rese subito attuative nel mandare una mail a tutte all'interregionale dicendo la data è il 30 vi preghiamo di presentare i piani vi preghiamo anche però e non so perché non ho avuto modo di vedere gli altri piani di scrivere all'interno nel testo libero che tutto quello che è scritto all'interno si deve tener conto di qualcosa che non è legge ancora questo è stato il suggerimento quindi adesso ci troveremo probabilmente ad avere dei piani presentati e anche dei giudizi che dipendono tanto da qualcosa che è stato inserito senza una legge di riferimento il che vuol dire che perderemo forse tempo un'altra volta e questo è stato fatto presente ma il ministero ed agida sono in una situazione in cui non riescono a dare neanche loro delle risposte certi a questi argomenti quindi ci siamo fatti forza tutti e cercheremo di capire cosa dobbiamo fare detto però che il dpcm è importantissimo dal mio punto di vista e anche le linee guida perché finalmente se va a buon punto qualcosa vediamo effettivamente le regioni cosa hanno fatto effettivamente come sono messe e abbiamo anche degli indicatori di monitoraggio non so se li avete guardati che sono all'interno delle linee guida e saremmo monitorati ogni 90 giorni su quegli indicatori e i piani di progetto e gli indicatori saranno pubblici in un sito nazionale quindi tutti avranno evidenza di quello che sta capitando ovviamente nel rispetto dei tempi definiti per legge quindi è evidente che se non rispettano i tempi di legge non sappiamo neanche in che modo vedremo queste cose quindi per quanto possiamo essere critici su quello che è stato fatto e posso riconoscere dei limiti credetemi che le regioni hanno lavorato tanto proprio tanto e credo che Diego lo sappia tutti quelli che sono seduti qui per arrivare a quei testi fatto sta almeno abbiamo una base di partenza su cui lavorare il Veneto si è impegnato oltre che nell'interregionale a cercare di coordinare le varie regioni per quanto possibile sulle tematiche di indirizzo nel 2012 abbiamo avuto un piano sociosanitario che ha imposto alla regione la creazione del fascicolo proprio una settimana prima della famosa 18 ottobre 2012 dove è uscito il decreto crescita nella prima attuazione fatto sta che abbiamo un progetto il progetto prevedeva dico prevedeva perché siamo in rimodulazione visto che il DPCM mi impone altre date mi impone altri contenuti quindi prevedeva l'attuazione in Veneto di un primo diciamo di una prima infrastruttura vi ricordo che in Veneto ci sono 21 ulse due aziende ospedaliere e li chiamavamo i cosiddetti 23 castelli perché non c'era assolutamente interoperabilità né tantomeno una condivisione di infrastruttura tecnica ma anche proprio funzionale grazie all'arrivo del consorzio Arsenal io sono una project manager del consorzio quindi in realtà prima dell'avvento del consorzio era una realtà c'erano delle realtà aziendali molto molto evolute e altre non evolute e con l'avvento del consorzio qualcosa si è andato a limare c'è quel famoso principio del dottor Dario di democrazia che effettivamente per quanto poco un po' si è portato avanti negli anni proprio perché abbiamo tentato con alcuni progetti di alzare il livello di digitalizzazione e anche di funzionalità verso l'ICT di moltissime aziende sanitarie detto questo eravamo abbastanza maturi anche per costituire il fascicolo Arsenal ha il coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo quindi sta portando avanti dall'ottobre 2012 il progetto che vede una prima chiusura nell'ottobre 2015 salvo appunto gli ulteriori diciamo ritardi che ci imporrà la legge di riferimento cosa abbiamo fatto? abbiamo costruito un sistema per ora molto organizzativo e ancora poco diciamo di risultato perché in realtà abbiamo buttato giù come diceva prima Stefano le autostrade perché non avevamo le strade quindi abbiamo cominciato a lavorare su la rete l'interoperabilità in senso di avere dei repository a norma di legge con dei dati e dei documenti clinici all'interno un registro regionale che riesca a gestire un indice secondo il modello delle linee guida la digitalizzazione dei referti in primis il laboratorio perché abbiamo portato a casa Escape per fortuna quindi avevamo la parte di laboratorio avanti abbiamo cominciato la contrattazione che i medici di base grazie alla dematerializzazione abbiamo con noi i fornitori di cartelle di medici di base di farmacia quindi tanto tanto lavoro di coordinamento con le regioni e con gli stakeholder cosa faremo adesso abbiamo un tavolo di lavoro regionale che si impegna ci sono tutti i responsabili dei sistemi informativi delle 23 si impegna a comprare delle cose si impegna a portare avanti delle milestone di progetto la prossima è proprio quella di chiudere la dematerializzazione che ha permesso di attivare le strade quindi di avere effettivamente il fascicolo a livello infrastrutturale attivo la prossima è cominciare a raccogliere i consensi e cominciare a far vedere i documenti in che modalità lo abbiamo scritto nel piano di progetto dobbiamo capire se attivando i portali se con una soluzione unica sicuramente però siamo dell'idea di copiare dai nostri amici del Trentino l'idea della multicanalità e del fatto che il fascicolo non è un cassetto con i documenti ma il fascicolo è un'opportunità per dare dei servizi e che questi servizi non devono essere dei monolitici ma devono poter rispondere alle singole esigenze quindi ben venga l'SMS che mi ricorda un esame ben venga il ricordarello della terapia che devo prendere perché soffro per esempio di diabete piuttosto che ho un INR da controllare lavoreremo su questa strada guardando copiando o confrontandoci coi colleghi delle regioni però in un'ottica di condivisione con i nostri 23 capi che bene o male devono avere devono soprattutto hanno a che fare con delle risorse esigue e devono avere un meno impatto possibile con i fornitori quindi tutto il lavoro del consorzio è quello di cercare di minimizzare l'impatto e di portare avanti piano piano le attività ci rivedremo tra un anno tra un anno e mezzo vedremo che cosa abbiamo risolto per quanto riguarda l'incontro così e poi chiudo sulla privacy o comunque sulla parte leguleia che abbiamo affrontato in questi due giorni è stato molto interessante confrontarsi con voi noi con Filomena ci parliamo parecchio perché comunque è un momento sempre di condivisione la parte di sicurezza e gestione privacy è un grosso problema e credo che dovremmo continuare a parlarne continuare a confrontarci perché non c'è una soluzione ancora a livello nazionale oltre a linee guida sul fascicolo ma dal punto di vista sicurezza parliamo di Speed per esempio immagino che molti di voi lo conoscano non c'è ancora un DPCM definitivo su questa parte e credo che sarà appunto il futuro sul quale noi dovremmo in qualche modo adeguarci perché l'identità digitale va definita e dobbiamo farla tutti nello stesso modo se no l'interoperabilità io la vedo dura che la andiamo a realizzare in primis sull'identificazione vi ringrazio molto bene allora quello che ha detto Federica è come dire la prova di due cose tanto le competenze sono decisamente importanti ora anche questo il piano diciamo delle competenze professionali all'interno degli organigrammi aziendali delle figure che seguono le architetture dei sistemi informativi le strategie informative non sono assolutamente riconosciute ancora in Italia e sono demandate alle singole aziende sanitarie noi sappiamo che ad esempio per quanto riguarda le competenze dei SIA io si sta lavorando sugli ECF framework insomma ma di fatto è una diciamo l'informatica medica chiamiamola così come si diceva una volta non è riconosciuta come ambito a parte che ha bisogno di competenze diciamo elevate ben vengano esperienze come quelle di Arsenal che invece sono stati in grado di mettere a sistema queste competenze e soprattutto di giovanissimi ingegneri che ho avuto la fortuna come dire di conoscere diversi anni fa l'esperienza delle altre regioni invece l'Emilia Romagna parliamo di sistemi FSE che sono stati implementati invece dalle in house in maniera pervasiva e si dice anche chiusa sì diciamo che onestamente dopo aver sentito parlare i miei colleghi prima di me aver ascoltato tutta la mattinata di relazioni parlare dell'Emilia Romagna mi sembra abbastanza riduttivo in Emilia Romagna abbiamo il grosso problema che siamo probabilmente come era il Veneto dieci anni fa cioè tantissimi ospedali tutti convinti di essere il miglior ospedale del mondo questo è incredibile ognuno prende ognuno fa questo è un problema molto molto italiano come diceva il collega prima ognuno di noi prende va dalla software house decide cosa fare e sviluppiamo da soli questo perché non c'è coordinamento non c'è nessuno che a livelli alti decide forza del Veneto avere Arsenal che ha preso ha deciso ha creato un coordinamento ha creato condivisione e ha messo a sistema le competenze nel resto ci si trova a farsi la gara tra ospedali a dieci chilometri questo è quello che succede purtroppo in Emilia Romagna in più negli ultimi cinque dieci anni è iniziato un processo di riaccentramento delle competenze sono state create le aree vaste dalle aree vaste siamo passati alle ausle uniche oggi esiste la ausle della Romagna dal primo gennaio 2014 che sono Forlì, Ravenna Rimini e Cesena dove Forlì negli ultimi anni è stato un ospedale altamente informatizzato oggi è un ospedale unico con Cesena che ad esempio non aveva un sistema informativo come dicevamo prima quindi diventa veramente complicato parlare dell'esperienza delle FSE sì esiste il progetto Sole un progetto che ha cercato di coinvolgere i medici e la medicina generale però alla fine cosa ce ne facciamo perché noi vogliamo il fascicolo sanitario elettronico qual è l'obiettivo qual è l'obiettivo del ministero qual è l'obiettivo di chi ce lo chiede curare il paziente non so però se il paziente è dall'Emilia Romagna va nelle Marche viene in Trentino va da un'altra parte siamo ancora da capo e sono passati anni e anni di lavoro dove adesso rimettere insieme i cocci di tutti questi sistemi sarà complicatissimo sarà complicatissimo e finché non torneremo indietro come dicevamo loro prima e dire signori che cosa vogliamo qual è lo strumento da utilizzare costruiamo prima i sistemi informativi poi sui sistemi informativi oggi abbiamo gli iPhone facciamo qualunque cosa decidiamo il riscaldamento di casa mentre torniamo dalle ferie dall'iPhone e non riusciamo a mandarci un documento digitalizzato credo che sia abbastanza imbarazzante per l'Italia il problema qual è è che noi prima facciamo le cose poi le regolamentiamo forse la colpa è anche la nostra che dovremo fermarci tutti e parlare con chi ci governa e dire prima ci dici cosa vuoi poi lo facciamo invece tutti gli operatori sanitari tutti gli ospedali cerchiamo di dare il meglio ai nostri cittadini il meglio al paziente quindi si parla di ricerca spontanea si parla di tutte queste cose qui che nascono dal basso e l'Emilia Romagna è l'esempio perché abbiamo una miriade di software house una miriade di sistemi informatici e nessuno si parla uno con l'altro prima parlava della contrattazione il collega chi è che va a fare contrattazione e chiede come requisito nel capitolato che i dati siano interoperabili con qualunque sistema mai mai perché fino ad oggi non l'abbiamo mai fatto e oggi quindi ci troviamo ammanettati con delle aziende con dei capitolati che non ci permettono di arrivare all'obiettivo finale che è quello della gestione del dato per utilizzare questo dato per i nostri pazienti quindi che dire io non ho una visione molto positivistica di questa situazione se non essere qui in queste giornate e fare passi avanti per cercare di confrontarsi costruire ma quello che vi posso dire dell'Emilia Romagna diciamo che è questo che può migliorare e deve migliorare e visto che ci sono esperienze così importanti non bisogna solo guardarle bisogna condividerle esportiamole il Trentino va bene il Veneto va bene la Toscana va bene bene facciamo come loro perché dobbiamo rifare cioè venendo al mondo sanitario dove le pubblicazioni scientifiche fanno teorie bene se esistono dei dati evidenti che determinati sistemi funzionano per quale motivo fare una gara e rifarlo ma va benissimo prendiamo tutto quello che c'è di buono mettiamoli insieme e cerchiamo di dare ai nostri cittadini il meglio grazie allora il paradosso della situazione ma poi ci sarà Fabrizio Reddavide che ci spiegherà meglio la questione è che le tecnologie sono mature cioè a noi il fascicolo sanitario ha delle tecnologie mature anche per quanto l'interoperabilità il problema è chiaramente un problema di natura politica cioè di natura proprio di governance politica di questo sviluppo che poi in generale coinvolge l'intero sviluppo dell'Italia digitale insomma passo la parola al dottor Dileo della Liguria hai delle slide? qualche breve slide mi sembra di capire che sono l'unico interlocutore che è un consulente e non è collegato con mi scuso che non è collegato con nessuna istituzione sostanzialmente allora in regione Liguria diciamo che non ci allontaniamo tanto dalla posizione di Matteo e ci sono appunto cinque ASL molto prepotenti che effettivamente pensano di essere ognuna la migliore e c'è stato poco coordinamento e poi c'è un gruppo molto segreto di lavoro in regione che si sta cercando sicuramente di fare qualche cosa io volevo raccontarvi l'esperienza che abbiamo avuto in provincia di Savona nel 2013 quando non era ancora ben evidente che il fascicolo sanitario doveva essere regionale e quindi c'è stata un'iniziativa di un fascicolo sanitario fra virgolette provinciale quindi che però voglio dire non è certo la territorialità che decide le regole poteva essere anche un buon progetto io l'ho vissuta come diciamo così col cappello dei medici di base e quindi volevo apportare questo contributo in più lato medico di base se può essere utile anche in questo ragionamento io seguo anche delle strutture sociosanitarie della regione Liguria fra cui appunto sia nelle aree minori che nella ricerca scientifica che appunto nelle case di riposo prima di tutto inizio facendo un attimo esponendo un provvedimento del garante privacy su uno studio radiologico proprio a Savona nella mia città e questo era il titolo serve una chiara indicazione dei soggetti e quali dati possono essere comunicati e per quali finalità c'era scritto così nell'informativa che in particolare appunto è stato segnalato che nell'informativa utilizzata dalla società è prevista la comunicazione dei dati raccolti a società di assicurazione fondi assistenziali e previdenziali privati e pubblici banche istituti di credito professionisti e consule ecco lascio a voi e ovviamente non era deselezionabile nel consenso perché quindi iniziamo di qua ecco è un po' questo l'inizio ecco per contro invece c'è stata un'iniziativa interessante di quest'anno che nasce da un'esigenza importante in quanto si registra nelle strutture sociosanitari un problema molto evidente cioè i familiari non riescono a sostanzialmente un po' per un discorso forse etico a istituire la famosa figura del tutore quindi abbiamo tantissimi pazienti nelle strutture che non sono in grado di intendere non riescono a decidere e non hanno il tutore assolutamente assegnato ci sono molte persone sole e questo diventa un problema grosso non c'è l'obbligatorietà di istituirlo i familiari gli sembra una cosa stranissima togliere alla nonna alla mamma il potere di decidere quindi è stata istituita questa diciamo così può essere anche discutibile però in un certo modo risolve un problema apparentemente il fiduciario sanitario sostanzialmente è una figura appunto come dice qua la persona e viene istituito con una delibera regionale lo vediamo subito esatto articolo 1 nasce oltretutto io l'ho messo in grigetto ma da delle norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità del genere ecco nasce da una cosa leggermente diversa però si chiama di fatto il fiduciario sanitario quindi appunto al di là ciascuno ha il diritto purché abbia raggiunto la maggiorità nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubblico private è fatto l'obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione delle dichiarazioni di cui ha il comma 2 quindi di vedere se è stato dichiarato o meno questa figura la manifestazione della volontà di cui ha il comma 2 garantisce altresì la persona designata di accedere per prestare assistenza e sostegno psicologico quindi molto umanizzata al malato in ogni fase della degenza nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura forma della designazione deve essere redatta in forma scritta su modulistica predisposta dalla regione con atta 20 data certa e firma dell'interessato quindi qui si parla di cartaceo ovviamente fiduciario deve essere maggiorenne l'atto di disegnazione del fiduciario è ricevuto dal medico di medicina generale che lo conserva è ricevuto dal medico di medicina generale che lo conserva tra i suoi atti lo trascrive al fascicolo sanitario elettronico personale questa è la prima volta che in una delibera viene scritto il nome del fascicolo sanitario elettronico poi c'è questo termine personale che non abbiamo bene inteso del disegnato la disegnazione può essere revocata o modificata in ogni momento da soggetto interessato l'interessato può procedere alla disegnazione anche direttamente nella struttura ospedaliera o di cura e la nomina del fiduciario di cui è l'articolo 1 qualora resa sia nel foro dell'articolo 2 presenta articola è allegata in caso di ricovero ospedaliero alla cartella clinica ed è vincolante per i sanitari dunque c'è allora il fiduciario a cui sono attribuito le titolarità dell'interessato ok competono il regolamento perfetto agisce in conformità e alle volontà del paziente ecco c'è come? dunque nel 2000 marzo 2014 non sono sicuro che sia ancora ovviamente entrata a regime però è di fatto valido non ci sono io credo che escano delle circolari esplicative ulteriori perché non mi risulta che siano ancora uscite vedete il punto 4 dell'articolo 2 agisce in conformità delle volontà del paziente è un pochettino sì è vero ok agisce in conformità delle volontà del paziente diciamo che è un po' una via di mezzo fra il tutore e le volontà del paziente in questo modo qua hanno voluto risolvere un problema e quindi guarda che non devi nominare il tutore non ti costa niente che è una cosa da liguri ma importante non ti costa niente questa designazione e oltretutto si chiama fiduciario quindi non è tutore non è una figura legale facciamo lavorare un pochettino meno gli avvocati sostanzialmente o comunque e istituiamo questa figura sostanzialmente che è una via di mezzo io dal punto di vista dal punto di vista legale mi sarebbe appunto utile capire da qualche uno di voi se questa cosa può avere una valenza abbastanza importante oppure no e qui la lascio un attimo come sul tavolo ecco concludo con velocissimamente come qual è stato l'approccio l'atto medici di base e qual è stata proprio la mia discussione in un tavolo dove c'erano medici di base e ASL proprio per far capire gli elementi base dai quali siamo partiti e può essere utile in qualche modo a livello proprio di semplificazione partendo da zero quindi noi avevamo dei medici di base pediatri di libera scelta titolari del trattamento con un database con un database sui loro server sui loro ok andando avanti ci siamo resi conto che ci servivano dei consensi per la comunicazione dei dati ai familiari o ai caregiver ci siamo resi conto che vado un po' avanti per fare prima che esiste un articolo 78 qui non si parla ancora di fascicolo sanitario si parla di trattamento dati del medico di base dove potevamo prendere dei consensi dove dovevamo prendere dei consensi della comunicazione ai familiari verificare se solo il medico di base o il pediatra di libera scelta doveva trattare i dati eventualmente raccogliere consensi il numero 3 su sostituti del medico di base o collaboratori amministrativi e il 4 era per estendere il consenso a dei gruppi di cura e sono sostanzialmente la medicina di gruppo territoriale questo era un po' la strutturazione dell'informativa e del consenso pre-idea del fascicolo sanitario poi ci siamo accorti che c'è il paziente che i dati non erano del medico di base e allora abbiamo detto bene saniamo il pregresso e questa è una frase che ricorre spesso quando si inizia a guardare i documenti che fino ad oggi hanno fatto un po' firmare sottoscrivere quindi ok va bene saniamo il pregresso andiamo avanti e ci rendiamo conto che ci vuole oggi una informativa ai medici di base e dei consensi che tengono conto almeno di questi quattro consensi espliciti in modo che il paziente abbia diciamo il potere di autodeterminazione e decidere i suoi dati effettivamente a chi devono essere visti andiamo avanti ecco l'ASL ha un database è un secondo titolare del trattamento dove ci sono dei dati dei pazienti i ricoveri eccetera eccetera non sappiamo ancora bene quanti e quali a questo punto cosa ci serve anche lì dovevamo sanare un pochettino di pregresso e quindi hanno prodotto evidentemente delle nuove informative e dei consensi relativamente sempre del dossier ASL e non ancora non siamo ancora arrivati al fascicolo a questo punto c'è stata l'idea di portare vedete il blu il blu è il medico di base il rosso è l'ASL c'è stata l'idea di portare i dati dei medici di base tutti in un contenitore unico che poteva essere gestito dall'ASL andiamo avanti e questo si chiama fascicolo sanitario elettronico in giallo l'ho messo dove l'ASL risultava titolare del trattamento per i suoi dati coordinatore dell'FSE e fornitore anche dell'applicazione fornitore dell'applicazione informatica l'ASL a questo punto insomma è una cosa un po' anomala ma era il momento di riuscire a gestire quindi si sono strutturati delle idee di consenso io sempre con il cappello dei medici di base l'abbiamo messo sul tavolo e poi hanno lavorato stanno ancora lavorando non abbiamo ancora delle risposte certe la cosa che c'è da dire è che non c'è stato l'accordo con i medici di base e questa non si sono accortati con i medici di base ancora ad oggi e quindi ci sono stati un pochettino di problemi ovviamente si è prevista la possibilità di far confluire altri titolari del trattamento a quello che sarà questo fascicolo sanitario elettronico niente non ho altro da dirvi questo è quanto ho potuto avere io come esperienza nella regione Liguria i gruppi di lavoro sono le singole ASL in particolare l'ASL del Chiavarese di Chiavari che è stata una delle prime a sicuramente a parlare di fascicolo sanitario l'ASL numero 2 Savonese subito dopo si è mossa in questo momento aspettiamo un coordinamento e che qualche uno ci dica un po' cosa dobbiamo fare grazie a voi allora c'era qualche perversità del professor Rizzo se vuole esattamente poi la dottoressa Polito è molto interessante questa idea perché si parla di diritto privato regionale le regioni possono incidere su quel nucleo di diritto e di obiettivi che non è un po' il cittadino che deve essere uniforme sul piano nazionale perché non si può arrivare però solamente proprio in Liguria ci sono molti colleghi che lavorano su questo però mi sembra che questo regolamento che nasce per gestire il problema delle coppie omosessuali per cui il difetto di legittimazione del compagno che non è nulla per la legge per cui quindi non gli si vede chiuso mi sembra che ci sia un lodevole intento per carità però si sia forse dimenticato che sotto il profilo della tenuta costituzionale diciamo proprio perché non ha la regione il potere di costruire delle forme di legittimazione su figure questa del fiduciario che diventerebbe quindi un soggetto capace di entrare nella grammatica della legge sulla privacy e quindi diventare il soggetto per il quale non c'è bisogno di comunicazione non c'è bisogno cioè diventa anche una figura che si sovrappone a figure previste queste sì dalla legge dal codice civile l'amministrazione di sostegno è ovviamente il tutore laddove insomma la persona che ha secondo gli istituti di diritto civile italiano mi sembra una cosa che probabilmente potrebbe finire davanti alla corte costituzionale insomma a parte che è un regolamento per cui basta disapplicarlo da punto di vista diciamo io credo allora io spero nella buona fede cioè no nel senso sono perfettamente d'accordo con la sua assolutamente discussione assolutamente io credo che forse cerco di dare una spiegazione su come è nato probabilmente è proprio nato dall'esigenza delle persone di avere dell'informazione a livello del pronto soccorso cioè molto spesso capita che non ci sono informazioni all'interno proprio del pronto soccorso una cosa semplicissima oppure che c'è difficoltà a interloquire anche nelle case di riposo e in questo modo sono un pochettino più legittimati i familiari ad avere questo tipo di informazioni di fatto appunto dal punto di vista tecnico non mi sembra che ne risolva tantissimo ne sia una soluzione tecnicamente troppo ecco corretta o comunque da rivedere probabilmente nei termini legislativi ecco a voi io volevo dare un inferiore contenuto proprio perché su questo tema ho ricordato una cosa che si associa a questo allora per diciamo mia conoscenza quando un'autonomia regionale legifera o comunque individua delle norme su un bisogno quella cosa diventa come si dice in gergo tecnico virale lo fanno anche gli altri in realtà la regione Liguria è arrivata seconda perché la prima a normare con legge regionale questa volta non siamo stati noi della Toscana ci hanno battuto sul tempo è l'Emilia Romagna che dieci giorni prima di loro ha istituito una legge regionale che riconosce l'istituto del caregiver io casualmente sono andata a vedere perché anni fa feci una ricerca per un caso per un incidente di percorso sul riconoscimento giuridico di questa figura che in altre diciamo in altri territori è normato mentre in Italia è un lodevole intento ci sono iniziative di riconoscimento però non è mai stato fino ad oggi fatto oggetto di un riconoscimento generale attraverso un intervento del legislatore nazionale l'Emilia Romagna ha normato questa figura e già allora mi posi i dubbi che si è posto Umberto Izzo ma che valore ha un riconoscimento dell'autonomia di questa figura io non la guardo sotto solo il piano della protezione ai dati in un sistema dove queste regole sono addirittura cristallizzate nel codice civile quindi probabilmente in Toscana la chiameremo in un altro modo perché poi ognuno la chiama a nome suo però tutti si scambiano il bisogno quindi interessante come diciamo bisogno da gestire però probabilmente l'approccio del livello regionale dell'Emilia Romagna per ora di quello Ligure forse di altri che stanno già lavorando magari hanno già provato qualcosa di simile non è quello corretto per la gerarchia delle fonti da così funziona vi aggiungo che il problema diventa che ad esempio dentro molti sistemi informativi il care giver è diventato una persona riconosciuta dove l'operatore sanitario deve contattare il care giver qualunque sia identificato quindi il problema diventa se è un problema di tipo legislativo ma in realtà se facciamo un passo indietro è l'approccio che è il problema abbiamo identificato un problema non andiamo a vedere quali sono le leggi e come sono fatte le leggi e ci muoviamo di conseguenza o chiediamo a un'istituzione scusi lei è come devo fare no ci arrangiamo facendo da soli e creando i precedenti ma dopo possono andare a gestire e dopo c'è da fare tutto quello che faceva vedere prima di Leo cioè la gestione del progresso come caso incidentale quando è che mi sono accorta del valore di questa figura perché io ho avuto un avvocato che ci ha detto che noi avevamo comunicato con quello che era stato indicato come caregiver che però non aveva copertura normativa e quindi una volta che uno poi ci batte il muso come si dice in toscano si accorge che certi limiti se li deve porre forse poi per gestire il bisogno si sta pensando ecco bisogna trovare eh? ma la persona che nomina il caregiver deve essere in grado di intendere di volere no la persona che nomina il caregiver deve essere in grado di intendere di volere quindi nelle strutture sociosanitarie probabilmente quel momento non c'è già più no? io penso alla maggior parte dei casi a cui si faceva riferimento e l'altro invece è un discorso mi riallaccio al discorso come dire giuridico cioè una cosa che vidi fin dal 2006 2008 tempo dei regolamenti regionali quando si fa e questo si fa anche a livello nazionale naturalmente quando si prende si decide di prendere un provvedimento che sia regolamentare legislativo o quant'altro visto e considerato che gli studenti di giurisprudenza trovano tanto noiosi no? lo dico da da ex studente sono in realtà quelli che ti vanno a riflettere se alla fine puoi tirar fuori la norma cioè quindi diciamo procedere a legiferare o a regolamentare senza essersi chiesti se esistono i presupposti normativi è un problema che a quanto mi state dicendo si è già verificato in tre regioni e forse si è verificato in altre noi non lo sappiamo insomma voglio aprire un convegno nel convegno la chiudiamo qui però diciamo al di là del problema del diritto privato regionale che esiste una giurisprudenza della Corte Costituzionale io non sono un pubblicista ma ne conosco le problematiche perché si pone a compasso allargato in vari settori dell'ordinamento è un problema quello di garantire alle regioni il potere di incidere sul fascio dei diritti che il cittadino ha di fronte all'ordinamento civile che è dato dal codice civile e deve essere uguale per tutti altrimenti perdiamo una norma che dica in Trentino se per questo non sei responsabile civilmente mentre in Emilia Romagna lo sei sarebbe evidentemente però quello che voglio dire è che si sta assistendo all'intercettazione di un bisogno che c'è con declinazioni diverse perché la figura del caregiver in Emilia è fatta con legge regionale già con un livello di preoccupazione legislativa diverso ma soprattutto con finalità mi sembrano molto concrete il caregiver è quasi un badante che sta lì invece in Liguria lo si fa per rispondere al problema dell'omosessualità e quindi un altro input e noi ci siamo posti problema lavorando qui in Trentino con la provincia nel nostro gruppo Trek perché abbiamo pensato ma un diritto personalissimo come quello che ciascuno di noi ha di gestire e trattare come interessato cioè le prerogative dell'interessato possono essere delegate con un atto di diritto privato che problemi ci sono se io delego a un soggetto terzo che può essere un mio familiare ma potrebbe anche non essere un mio amico il mio amante potrebbe addirittura diventare e qui si pone un altro un altro problema quando si sta sul telematico e non sul caregiver che sta lì potrebbe diventare uno che dice io faccio incetta di divento destinatario passivo di una serie di questi atti di volontà con cui dei vecchietti che magari non hanno nessuno assumo come dire si pongono problemi abbiamo riflettuto su questo problema penso in anteprima a livello di letteratura italiana con Paolo Guardia in un working paper che è pubblicato nel sito Lotec che peraltro avevamo anche discusso nei nostri tavoli di lavoro effettivamente bisogna rifarsi alle norme del mandato e bisogna chiedersi con l'atto di incarico che il privato fa che il cittadino privato fa quali sono i confini sono problemi davvero nuovi e molto interessanti su cui anzi sarebbe importante e opportuno visto che questo è un consesso diciamo nazionale iniziare una riflessione perché questi sono problemi che si porranno posso io come dire con la mia con la mia con il mio atto di volontà senza ancora arrivare allo stato diciamo di postrazione oppure di incerta capacità posso io davvero incaricare incardinare le mie prerogative incaricato su chiunque senza nessun limite lo posso fare e quest'atto negoziale come viene poi recepito anche a livello certo nel momento dell'FSE lo posso fare ma poi in tutte le altre manifestazioni è un problema su cui semplicemente mi limito a accendere la luce ma magari se ne parlerà magari in un'altra occasione intanto se volete sul sito lo tech trovate questo paper che fa un primo bilancio la tutela dell'anziano perché l'abbadante lo vuole truffare ma se io avrò 90 anni e voglio un abbadante di 30 anni e le voglio fare dei regali e sono parzialmente rimbecilito ma non completamente lo faccio di mia volontà non faccio un danno a nessuno vivrò bene negli ultimi periodi della mia vita perché devono sequestrarmi i beni per esempio si legge sul giornale capito ci sono degli aspetti che andrebbero considerati che si presume che tu sia una persona pericolosissima Teresa Bulfone bellissimo parlare in fondo perché posso solo dire grazie ai colleghi perché se devo dire io sono un povero medico imprestato all'assessorato che si è trovato sul tavolo no no povero medico perché ragazzi insieme a tutti gli informatici è un dramma che mi sono trovato su questo tavolo della sanità elettronica dove ho imparato tantissime cose e ho seguito ho messo la frasetta nel documento anche se noi siamo fuori dal fondo ma tanto ci fregano da un'altra parte per cui non è che poi è vero che noi siamo valutati lea perché la regione in questo momento è ancora fuori dal fondo perché giustamente anche noi ci siamo trovati nella difficoltà di andare a rispondere a delle linee guida senza un DPCM pubblicato e non sapendo se questa non pubblicazione porterà modifica di qualcosa che in teoria non dovrebbe farlo perché è stato approvato dalla conferenza del Stato-Regione però lascia sempre un po' qualche dubbio aperto per me è facile parlare del Friuli di Venezia Giulia perché comunque noi già con le impostazioni legislative precedenti ma soprattutto con il piano socio-sanitario 2005-2008 erano state messe le basi di quello che è un fascicolo sanitario nel senso si parlava di anagrafe unica si parlava di CUP si parlava di SIO e ADT per tutte le strutture ospedaliere quindi unico linguaggio quindi non abbiamo questa problematica di andare a recuperare i dati da altri in questo momento noi ci poniamo il problema come recuperare i dati dai privati convenzionati o dal medico di medicina generale dove lì si apre un altro baratro che i colleghi sanno perfettamente che nel momento in cui lo Stato impone alcune cose non si va a preoccupare quando va a fare il rinnovo contrattuale di dire vi do i soldi io non andate a chiedere ulteriori soldi perché se andate a fare un'analisi di quanti soldi hanno speso tutte le regioni quella dematerializzata il certificato di mattia il pazzi insamere sarà devastante da un punto di vista economico tanto per dirvi adesso c'ho dei colleghi che dice ma mi devono comprare anche il computer se vogliono che io faccia questa cosa qua al di là del toner e della carta e tutta quella cosa per cui è un problema grosso abbiamo introdotto il concetto della firma digitale sulla maggior parte dei documenti prodotti ormai penso che c'è anche l'ultima azienda sulla firma digitale che manca per cui noi abbiamo uno storico di documenti già firmati digitalmente da diversi anni il concetto della CRS da noi è dal 2006 che è tutta la popolazione della regione della CRS e abbiamo creato con quelle norme il cosiddetto portale del cittadino il portale delle farmacie il portale della medicina generale dove appunto con CRS PIN si entrava e c'erano informazioni sanitarie perché si poteva trasferire i dati ma anche tutti i servizi come diceva giustamente la collega del Veneto poi abbiamo l'interprana dei comuni per cui noi abbiamo le anagrafi comunali già collegate con l'anagrafi sanitaria adesso è collegato per cui diciamo che siamo in una situazione in cui noi potremmo cominciare a implementare non per niente alcune aziende visto che da noi hanno fuso le aziende da un punto di vista non giuridico ma hanno detto che come area vasta provinciale dovevano rapportarsi hanno creato i fascicoli sanitari per poter trasmettere le informazioni tra di loro i repositori c'è l'indice c'è per cui abbiamo alcune cose sicuramente la problematica rispondendo alle linee guida che devo dire possono essere contestabili ma hanno permesso di mettere degli step per cui ognuno ha risposto a informazioni e rispondiamo tutte alle stesse domande e possibilmente dando delle risposte che possono essere comparabili per vedere e la grossa problematica è questo sì va bene i referti di laboratorio ma i nostri referti di laboratorio già archiviati e quelli che stiamo producendo con i nostri applicativi non rispondono alle caratteristiche messe alla linea guida quanto costerà quanto costerà questa cosa ha senso o non ha senso potrebbe aver senso soprattutto se io poi nel fascicolo sanitario non metto il referto come siamo abituati a vederlo ma magari metto dei dati strutturati per cui per certe patologie seguo una cosa piuttosto che un'altra che è quello il vero valore aggiunto che io posso dare che cos'è il fascicolo è questo che dobbiamo porsi il problema il fascicolo lo creiamo per dare dei multiservizi come diceva la collega del Veneto e non solo come cassetto è il cassetto informatizzato delle carte che il cittadino tiene a casa ci serve veramente il fascicolo per fare ricerca o programmazione non lo so io ho qualche dubbio noi abbiamo un data warehouse che già lavora in base alla scheda 12 del regolamento che fa queste cose vediamo che cosa vogliamo dare sicuramente se non risolviamo questo problema di come trattare le persone fragili per quelle persone che hanno realmente bisogno di questo strumento che sono proprio gli anziani o quelle che non hanno capacità di intendere di volere noi blocchiamo tutto perché chi mi firma poi sentivo prima c'è l'amministratore di sostegno come mai non lo applicano provincia di Udine l'amministratore di sostegno presuppone per i giudici e tutelare che ci sia l'avvocato 5.000 euro ogni volta che chiedono l'amministratore è così ogni eh no io ho delle province inferiori invece a Giulia che è gratuito Udine non è gratuito Trieste è gratuito Pordenone è gratuito il discorso di base è che non trovano più amministratori di sostegno e abbiamo dei giudici tutelari quello di Udine in particolare che dice cosa ci rompete che faccia il medico per cui poi dico si prende penale va lei con il procuratore perché poi voglio vedere nelle cose e parliamo in quel caso non di consenso al trattamento dei dati ma consenso al trattamento sanitario che ha degli impatti ancora più pesanti però in effetti è vero noi abbiamo e Ligure e Priori messi a Giulia si stanno battendo chi è più vecchio sulla cosa ma noi abbiamo una tantissima popolazione che in effetti non potrà mai accedere al fascicolo perché non ci sarà nessuno che firma allora se no ma qui non è che la risolve la regione secondo me come discutevo prima con Diego dico ma perché tu Stato a un certo punto non riesce a stabilire che cosa vuol dire appartenere a servizio sanitario nazionale che ha comunque una finalità diversa rispetto alle istituzioni europee dove parliamo di mutue prevalentemente allora è corretto che io vado dal medico di micia generale e poi dico che questo non può vedere l'esame che ha chiesto per curarmi per cui benvenga lo strumento perché ci permette probabilmente di mettere in discussione queste cose qui poi le evoluzioni tecniche sono quelle che sono insomma è tutto migliorabile sicuramente devo dire che noi in ospedale è cambiato da così a così la possibilità di vedere il dato e non vederlo perché la maggior parte che arrivano dice che cosa prende come terapia boh mi sembra che sia una pastiglietta bianca e una blu ma non so che cos'è per cui parlando anche di responsabilità professionale sicuramente c'è qualche problematica proseguiamo gli ultimi due interventi Fabrizio Redavidi il punto di vista dell'industria su tutto quello di cui si è discusso e chiuderemo poi con il rappresentante di cittadinanza attiva e con le conclusioni di Filomen Abolito buongiorno a tutti sono Fabrizio Redavidi io sostituisco il mio amministratore delegato Alberto Steindler che oggi non ha potuto intervenire a questo convegno in quanto è convocato dal ministro Lorenzini in un'audizione e dopo durante magari il mio intervento vi spiegherò perché perché ha a che fare anche in qualche modo con il mio intervento io parto da una serie di considerazioni probabilmente banali comunque che sono state anche come dire consolidate in qualche modo cioè dal fatto che investire in sanità digitale rappresenta come dire uno strumento che consente di migliorare la sottomitabilità del sistema e di migliorare la qualità dei servizi dei cittadini in questo contesto è stato provato da fonti autorevoli che essendo la spesa sanitaria pubblica italiana di circa 100 miliardi di euro nel 2012 applicare i risparmi ipotizzabili attraverso la tecnologia ICT sono pari circa all'11% quindi intorno a 12-13 miliardi di euro questo come fonte commissione europea il fascicolo sanitario elettronico è sicuramente uno strumento strategico in questo contesto il problema è cosa il fascicolo sanitario elettronico io ho preso un po' di appunti in questi giorni ho guardato un po' in giro ho letto dei documenti a me personalmente sono piaciute questi tipi di definizioni è una delle più importanti infrastrutture di contenuti abilitanti un nuovo sistema sociale e sanitario del nostro paese mi è centrato sulla rete dei bisogni delle persone indispensabili al lavoro dei professionisti sono entrambe le questioni il paziente al centro il professionista che deve lavorare avere i dati per lavorare un'infrastruttura di dati la cui qualità nell'aggiornamento accessibilità secondo regole certe sia la base della conoscenza per la tutela della salute dei cittadini nell'operare quotidiano dei professionisti nelle strutture del sistema sanitario nazionale nelle sue articolazioni regionali quindi in qualche modo il fascicolo sanitario elettronico rappresenta un fattore abilitante come detto dalla collega del Veneto è eroga dei servizi e parte dei processi di prevenzione di agnosi cura e riabilitazione e quindi è un argomento estremamente complesso affrontare il fascicolo senza affrontare il fatto che la cartella clinica deve esistere deve essere diffusa significa fare delle infrastrutture vuote perché i dati non ci sono piuttosto che avere un'informatizzazione una continuità dell'informazione che ci porta alla continuità tra ospedale e territorio che ci porta anche a nuovi modelli di cura come il chronic care model piuttosto che sistemi di medicina iniziativa di medicina personalizzata su cui come insieme al mercato mi hanno fatto anche degli interessanti progetti di ricerca quindi di fatto l'implementazione del fascicolo è sicuramente una sfida soprattutto organizzativa che si parte dall'aspetto organizzativo ma anche una sfida tecnologica quindi richiede una revisione organizzativa in un'ottica di forte multiprofessionalità multidisciplinarità e anche una revisione organizzativa nell'ottica anche in cui il paziente diventa attore del sistema e parte integrante del sistema cioè l'empowerment non è scontato nel sistema sanitario attuale è una prassi che richiede anche dei cambiamenti culturali organizzativi richiede standardizzazione standardizzare i contenuti informativi ma standardizzare anche i processi richiede la capacità di avere un approccio del processo del tipo workflow cioè poter modificare i processi in maniera dinamica richiede che le applicazioni i fornitori debbano dare delle soluzioni che non sono dei verticali a canne di d'organo ma sono delle soluzioni che approcciano la problematica del percorso del paziente nella diagnosi cura prevenzione e riabilitazione bisogna colmare il gap informatico bisogna avere le caselle cliniche informatizzate avere la diffusione dell'informatica all'interno delle strutture sanitarie fino ad arrivare anche l'informatizzazione ad esempio dei dati di domicilio ricordo che noi essendo come come stato tra i stati più vecchi d'Europa è lo stato più vecchio d'Europa per più del 20% della popolazione a più di 65 anni sicuramente il problema delle malattie croniche è un problema che ci porta a dover integrare una serie di device che portano ad una serie di dati intorno al paziente che si moltiplicerà nel tempo e dovrà essere gestita quindi una sfida molto importante ma anche in contesto in un contesto in cui noi siamo sostanzialmente questo porta i dati dell'osservatore CIT del Politecnico in cui l'Italia è un sistema sanitario tra i meno costosi d'Europa si parla di 3.000 dollari di procapite di spesa è il prese più vecchio d'Europa e la qualità delle prestazioni è considerata in base alla fonte Eurotech alle sotto della media europea questo è il contesto in cui ci troviamo con una spesa sanitaria che è di 111 miliardi pari al 7% del PIL è una spesa ai siti in sanità di 1 miliardo 1,17 miliardi significa l'1,05% della spesa sanitaria ma soprattutto lo 0,07% del PIL il dottor Sartori stamattina parlava che in Europa si prevede che il livello di investimento sia pari a livello europeo al 2% del PIL quindi siamo allo 0,07% del PIL a cui cosa si aggiunge? si aggiunge che in questi anni la spesa ai siti in sanità è diminuita dal 2012 2013 del 5% però se guardiamo ad esempio le strutture sanitarie e guardiamo la suddivisione tra spesa corrente e spesa dell'investimento arriviamo a meno 26% di investimenti nella sanità di cosa stiamo parlando? vi porto quindi il punto di vista di un fornitore di chi produce soluzioni software e cerca di venderle e cerca di investire ma anche di avere il ritorno degli investimenti che fa quindi da questo punto di vista serve sicuramente un cambio di paradigma cambio di modelli di business e cambio di modello di collaborazione ecco che torno all'incipio del mio intervento ovvero perché non è qua il mio amministratore legato è perché in audizione della ministra Lorenzin perché le 8 delle maggiori aziende che operano diciamo nella city sanitario insieme a Mercato e Gruppo TBS insieme a Telecom Exprivia Poste Italiane Noi My Life Reply Reply Santerre ed Edalus abbiamo deciso di metterci assieme in una sorta di protocollo abbiamo fatto dei laboratori congiunti di innovazione in sanità denominati proof of concept per cercare di fare un modello di sanità diciamo condivisa aperta interoperabile cercando di dare delle proposte di attuare un nuovo modello di protenariato tra il privato e il pubblico discutere con gli attori pubblici quali sono i modelli sostenibili qual è il cloud sostenibile in ambito sanitario negli interventi di questa mattina ma anche di ieri si parlava che il cloud è un problema bene creiamo un cloud pubblico privato italiano che sottostia alle normative e alle caratteristiche che deve avere per essere sicuro per essere con dati di proprietà degli enti che devono utilizzare del paziente e così via sulla base di questo è stato fatto un comunicato stampa e fatto un documento mandato dalla ministra che ha deciso di invitare gli otto amministratori legati di questa società e comprendere come si può creare questo modello quindi cambio di paradigma significa sì diciamo che da questo punto di vista una delle proposte dentro di questo diciamo sistema non è di chiudere ma di estendere estendere come? con i nuovi modelli modelli delle app economy cioè io se io parlo di interoperabilità parlo di sistemi scusate uso un termine informatico middleware che parla con altro middleware su cui ci sono delle piattaforme che io posso esporre qualcuno può entrarci di sviluppare dei servizi che magari altri non fanno perché non li tengono interessanti utili o redditizi quindi creare un ecosistema stiamo parlando di creare un ecosistema pubblico privato privato grande privato piccole e medie imprese perché anch'io come azienda posso avere delle necessità di fare delle cose magari certe app di un certo tipo non mi interessa fare un altro le potrà fare utilizzando la piattaforma messa assieme in un contesto di ecosistema generale diciamo che a livello di insieme mercato e di TBS group rispetto anche un po' allo stimolo dell'intervento abbiamo fatto diversi progetti che sono parte di progetti di fascicolo sanitario elettronico cito qualcuno il progetto d'oggi in regione 20 a cui abbiamo collaborato nella parte del registro dei repository nella parte sperimentale il progetto sempre in regione 20 della rete mammografica lo screening oncologico del Veneto piuttosto che stiamo collaborando con le regioni Marche sulla realizzazione del pc sanitario elettronico tra i vari progetti vorrei citarne solo uno che è un progetto internazionale austriaco che è il progetto ELGA a cui noi abbiamo partecipato già nel 2007 nel definire le specifiche in quanto come attraverso la controllata PCS avevamo tutte le aziende ospedaliere del Tirolo e abbiamo messo già nel 2007 in rete tutti gli ospedali del Tirolo e praticamente è un progetto che nel 2009 aveva già in produzione diciamo la messa in rete di tutti gli ospedali grazie bene due parole diciamo di sintesi al rappresentante di Cittadinanza Attiva e poi Filomena della chiusura le mie parole sono proprio di sintesi estrema confermo quello che ho già detto ieri nella mia esposizione che molti problemi che arrivano nel nostro ufficio sono quelli riguardanti la comunicazione e che poi la comunicazione sia scritta sia comportamentale sia di comunicazione non verbale tutti i tipi di comunicazione poi diciamo che da noi si verifica un effetto imbuto dove l'utente paziente viene a esporre quella che è la situazione in cui si è trovato sia vera non sia vera però comunque il paziente ha delle percezioni perciò è come quando noi abbiamo ci sono 30 40 gradi di caldo e invece noi è come se ne sentissimo 45 ecco allora sarà vero o non sarà vero perciò si tratta solo adesso nell'ambito di questi lavori che si stanno portando avanti per il fascicolo elettronico c'è da augurarsi che da noi arrivino le persone che possano esprimere una certa soddisfazione cosa che è difficilissima è rarissima che avvenga comunque l'augurio è proprio questo e un'altra cosa speriamo che le cartelle cliniche vengano redatte in maniera informatica perché molte cartelle cliniche sono del tutto illegibili questo lo posso e nell'ambito dello stesso ospedale delle stesse strutture ci sono cartelle cliniche informatizzate e cartelle cliniche scritte a mano perciò c'è da augurarsi che almeno quello possa aiutare nella comunicazione con il paziente grazie cosa che facciamo sempre regolarmente allora due parole conclusive non so se Umberto vuoi innanzitutto un grazie di cuore a tutti i collaboratori di questo evento cioè secondo me è riuscito più che bene sono veramente soddisfatta a quelli che si sono mossi da tutta Italia per venire a confrontarci in questa stanza per due giornate l'obiettivo che mi ero posta mi sembra di averlo portato avanti tutti gli attori interessati al percorso di innovazione e digitalizzazione del sistema sanitario sono stati qua presenti si sono confrontati e si sono confrontati tutti diciamo dando il proprio contributo perché queste due mezze giornate fossero veramente un'occasione di studio di riflessione fra di noi per la maturazione del sistema a beneficio poi prendo occasione dell'ultimo intervento del Tribunale dei diritti del malato che ringrazio particolarmente per il contributo perché tutto questo fosse poi qualcosa che seminasse le migliori soluzioni a beneficio del corretto uso delle risorse che il cittadino ci mette a disposizione come contribuente e questo servisse al miglioramento dei percorsi di cura e alla migliore comunicazione fra chi ci mette a disposizione le informazioni e chi le utilizza sempre come diceva Antonella Bulfone per curare meglio le persone due parole in più sull'associazione di cui sono presidente e fiera diciamo organizzatrice l'approccio trasversale che questa associazione sta portando avanti sta cominciando a dare i suoi primi frutti io vorrei nel corso dei mesi a venire fare un secondo step proprio su queste materie proprio perché chi contribuisce ai lavori di questa associazione fosse anche il testimone di che cosa di evoluzione nei prossimi mesi speriamo di avere su questo tema per cui invito tutti i presenti e anche tutti i rappresentanti delle istituzioni e dell'università qua che ci ha ospitato e ringrazio ancora a contribuire se vogliono a tutte le nostre prossime iniziative perché io vorrei di qui a fine anno fare un secondo step su questo tema ho già anticipato ieri l'ha anticipato mi sembra Graziano che noi a settembre già ci siamo organizzati per fare un evento sull'utilizzo delle app nel sistema sanitario cosa su cui non sono ancora state nemmeno pensate le regole è stato fatto solo quello swept die da parte dell'autorità garante e si attendono delle direttive specifiche e anche qua le direttive arriveranno quando molti si sono già organizzati e dovranno rimboccarsi le maniche probabilmente per rivedere delle cose per adeguare quello che stanno facendo a regole che purtroppo nascono dopo gli strumenti che già stiamo cominciando a utilizzare e vorrei poi di qui a fine anno fare come dicevo un aggiornamento su questo tema io ringrazio tutti di tutta la collaborazione e anche della precisione nei tempi che abbiamo progettato e complimenti a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti